buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori di radio saius e bentrovati per questa nuova diretta di spazio aperto, Ugo Lombardi salutiamo il nostro regista Ugo Moreno, ciao Ugo buonasera a tutti quanti ben trovato e diamo il benvenuto al graditissimo ospite di questo pomeriggio è con noi Pier Giorgio Caria il cercatore di farm internazionale documentarista divulgatore e aggiungo uomo saggio ciao Pier ciao Antonella si sente bene la mia voce perfettamente perfetto noi ci arriviamo bene? sì sì benissimo perfetto allora fra pochissimo partiamo con te Pier l'argomento di quest'oggi è molto molto importante forse poco attenzionato da parte del gran numero di abitanti della terra ma sicuramente di grandissima importanza ed emergenza soprattutto quindi cercheremo di capire un po' in che condizioni è il nostro pianeta e quali sono le prospettive allora io per intanto passo la linea ad Ugo per i saluti al network e poi ci ritroviamo qui nel nostro studio virtuale prego Ugo. Ti ringrazio Antonella da diverso tempo come dico sempre Radio Saius si avvale della collaborazione di diverse web radio ovviamente oltre alle sue che sono Radio Saius e Radio Saius Classic ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Modra Noiradio e come dico sempre le ultime tre per così dire Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ci si può collegare a noi, ci si può intervenire più che altro sulla linea telefonica allo 0422 16 26 622 0422 16 26 622. Inoltre ricordo come sempre che le chat sono aperte sia quella sul sito di Radio Saius dove ci si può seguire anche sulla web tv che ovviamente quella di Facebook e ci si può anche seguire anche lì senza problemi. E con questo è tutto Antonella ti ripasso la linea. Grazie Ugo. Allora Pier Giorgio, ben trovato ancora una volta, grazie per essere con noi quest'oggi, sappiamo che tu sei sempre tanto impegnato quindi averti come ospite nella nostra trasmissione è sempre un gran piacere. Grazie a voi Antonella. Eh ma di te. Quello di cui parleremo oggi è un argomento molto importante che ai più sembra lontano ma che in effetti è estremamente vicino. Parliamo di tutti i cambiamenti che il nostro pianeta sta subendo a causa dell'impronta violenta dell'uomo. Molti ecosistemi sono saltati, molti sono in procinto di farlo. Abbiamo perso buona parte della nostra biodiversità soprattutto nei mari e di qualche giorno fa la notizia che se andremo avanti di questo passo, entro il 2050 nei nostri mari, nei nostri oceani ci sarà più plastica che pesce. Quindi la vita è davvero in grave pericolo. Pier che momento è questo per la terra e per l'umanità? Ma la domanda Antonella richiederebbe che tu mi facessi l'indicazione di quale ambito devo parlare. Perché possiamo parlare di un ambito umano e sociale, possiamo parlare di un ambito planetario in termini di fisicità del pianeta o possiamo parlare di tutto? Dimmi tu. Sei libero di scegliere. Va bene, allora partiamo dalle cause perché la condizione nel quale vive il pianeta oggi, nel quale si trova il pianeta oggi è certamente derivante dalle azioni dell'uomo. Quindi l'uomo ha causato al pianeta una serie di spaventosi squilibri che si ripercuotono dopo su di noi attraverso tutta una serie di situazioni che ci creano gravissime sofferenze. Quindi in riferimento a quello che giustamente hai detto tu, i nostri stessi scienziati ci dicono oggi che il nostro pianeta cesserà di riprodursi a livello dei sistemi biologici entro il 2050 che in termini di età del pianeta, in termini di evoluzione del nostro sistema Terra praticamente accadrà domattina considerando i milioni di anni di esistenza del nostro pianeta. Quindi già sulla scala temporale planetaria la comparsa dell'uomo sulla Terra è avvenuta proporzionalmente pochi istanti fa, in pochi istanti in cui l'essere umano si è manifestato ed è riuscito ad arrivare alla fine del suo ciclo vitale perché se muore il pianeta è ovvio è la palissiano che moriamo anche noi. Ora la cosa preoccupante Antonella è che la percezione che ha la massa di tutto questo, la massa degli esseri umani è praticamente uguale allo zero assoluto, un vero e proprio vuoto pneumatico laddove le persone quando ascoltano queste notizie non vengono toccate perché o se vengono toccate si chiudono a riccio per la paura perché ritengono di non avere potere su questa situazione ed è un fatto su cui io non sono assolutamente d'accordo, però questo è, speriamo a livello… Tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, il 2050 e fra 33 anni un battito di ciglia per il pianeta. Un battito di ciglia, sì sì, siamo assolutamente in questa assurda situazione, il problema ribadisco è che l'essere umano comune, questo lo dico con cognizione di causa perché essendo io un divulgatore quasi forse nato con i miei 60-70 appuntamenti diretti col pubblico annui, a parte le frequentazioni radiofoniche o televisive, vuol dire che incontro migliaia di persone annualmente, per cui quello che mi trovo davanti quando parlo di queste cose è che le persone sembrano cascare dal pero, è come se io stessi parlando di fantascienza perché dopo questi discorsi non sono ridondanti o comunque espressi nella giusta forza, con la giusta forza attraverso i media televisivi che ci propongono una lettura della realtà assolutamente stupida e assolutamente fuorviante, quindi è molto difficile nel momento che io snocciolo i dati di quella che è la realtà del pianeta, praticamente le persone hanno paura, si trincerano dietro e ma tanto io cosa posso fare e così via, comunque il fatto che il pianeta sia in questa condizione non riguarda solo i nostri governanti dai quali le persone spererebbero la soluzione di questo gravissimo problema, ma il problema è che se i nostri governanti e in questo non intendo solo i nostri politici, ma intendo soprattutto le classi dirigenti di tutti gli ambiti e sapendo anche che le classi dirigenti dei maggiori ambiti che incidono sul nostro quotidiano e quindi sul pianeta sono tra l'altro una classe dirigente sconosciuta, li chiamiamo Bilderberg, li chiamiamo Trilateral Commission, li chiamiamo Gruppo dei 300, li chiamiamo in vari modi, però di fatto la stragrande maggioranza degli esseri umani non sa nemmeno che questa gente esista ed è gente che ha un tale potere a livello economico in grado di condizionare tutte le politiche del mondo o quasi, quindi la persona si trincera o dietro la paura e la paralisi o appunto nella vana speranza che i potenti risolvano il problema, ma io contrappongo una considerazione, se i potenti del mondo sono la causa di questo problema come possiamo sperare da loro che ce la risolvano? È una situazione un po' paradossale, è come se un ammalato di cancro speri che il suo cancro lo guarisca, è una condizione assurda, quindi il fatto che le persone comunemente facciano questo è sbagliato, perché alla fine chi produce la ricchezza, chi ha reale incidenza nel sistema siamo noi, i potenti non fanno altro che godere e sfruttare il prodotto del nostro lavoro e quindi la ricchezza che noi con il nostro lavoro produciamo, perché è palese che i potenti non lavorano, fanno lavorare noi, imponendoci attraverso tutta una serie di trucchi e di truffe delle decisioni di cui noi non abbiamo capito nulla e qui posso fare un esempio chiarissimo, qualche giorno fa ho sentito attraverso i media che l'Italia ha sforato i 2.200 miliardi di debito pubblico, ma io chiedo spesso alle persone, ma mi sapete spiegare da dove nasce il debito pubblico, chi ha causato questo debito pubblico? Non lo sanno, l'unica cosa che sanno è che abbiamo un debito, ma io rispondo, ma se noi abbiamo un debito che di circa 30 e passa mila Euro pro capite e non sappiamo la causa del debito, come speriamo questo debito di soluzionarlo? Per cui se ho un debito, non è solo a causa e quindi non ho il controllo su questo debito, io sono destinato a un fallimento assolutamente certo, quindi come facciamo a non fallire? La mia risposta è dobbiamo istruirci e dobbiamo riconsiderare la nostra posizione, perché noi accettiamo di essere i terminali della responsabilità di un debito, ma non la mettiamo mai in discussione, io a volte chiedo, ma perché noi possiamo anche essere i terminali di un guadagno? Non è che l'Italia è sempre in perdita, anzi nell'ultimo vintennio l'Italia è sempre stata in guadagno, salvo poi attraverso la truffa del mondo finanziario ci rubano il guadagno che l'Italia nel suo dare a avere commerciale produce, intendendo in questo ovviamente la produzione di ricchezza che gli italiani realizzano attraverso il loro lavoro, quindi c'è una situazione assolutamente demenziale di, come si può dire, di incompetenza da parte del pubblico, da parte della società che essendo incompetente è sottoposta ad amministrazione coatta da un gruppo di delinquenti che non fanno altro che ingannarci e truffarci, questa è la situazione, quindi non vi può essere una soluzione del problema del debito pubblico e tantomeno del pianeta, laddove noi da incompetenti attraverso una presa di coscienza e un rigetto di certe logiche diventiamo competenti. Infatti Piero Giorgio, naturalmente la tua spiegazione è sempre così valida, ma induce a fare altre considerazioni, tenendo sempre presente il problema antropico, la causa dell'inquinamento e l'uomo, perché abbiamo un aumento progressivo di CO2 e quindi sappiamo che le parti per milioni sono in progressivo aumento, dobbiamo tenere presente che esiste una voluta inconsapevole o consapevole ignoranza della gente, perché tenendo la nostra popolazione in una situazione di ignoranza non sa come e cosa chiedere al potente di turno. Quindi abbiamo anche nel nostro piccolo, questo piccolissimo compito di dare queste piccole informazioni dopo che noi magari saremo riusciti anche a metabolizzarle. Tornando all'argomento, abbiamo un aumento della CO2, è un fatto antropico, perché migliaia di anni fa abbiamo avuto aumenti di temperatura come questo, però era sempre antecedente all'era industriale, quindi possiamo addebitare allo sviluppo dell'industria un aumento delle emissioni inquinanti nell'atmosfera. L'uomo ha definito, come tu dicevi bene prima, progresso una situazione come questa, ma il termine forse dovrebbe essere rivisto, perché è un progresso che crea danno. Fra l'altro poi l'uomo ha creato questa situazione che ha definito progresso e non riesce nemmeno a ritornare, a porre rimedio a questo stato che lui definisce progresso, quindi dichiarava che cavolo di progresso è. Allora aspettiamo delle soluzioni. Una soluzione dovrebbe essere quella di diminuire il colluvio fra anidride carbonica e vapore d'acqua che contribuiscono a creare un effetto stagnante sulla terra. Sì, un effetto serra. Un effetto serra, benissimo, anche perché ci sono poi delle variazioni di lunghezza d'onda per cui il caldo arriva e non può più uscire. Allora, quest'uomo che è stato in grado di inquinare potrebbe essere in grado secondo te di trovare una soluzione perlomeno temporanea in modo tale da non superare il punto di non ritorno di cui si parlava prima? La risposta è complicata, Ugo. Giusto stamattina sentivo uno psicologo che affrontava il problema della trasformazione della psicologia delle masse dal concetto neoliberista imperante oggi, cioè il libero mercato e analizzava i danni che questa mentalità ha portato, che sono soprattutto una esasperata competizione tra gli esseri umani e quindi parlava degli aspetti che lui riscontra nei suoi pazienti che spinti da questa ormai paura del futuro, il futuro non è più una speranza come forse Ugo lo è stata per noi, oggi per il giovane il futuro è paura, paura di una disoccupazione cronica, paura di un'indigenza economica cronica, tale per cui il ragazzo o la ragazza percepiscono come nebuloso e insicuro il loro futuro, spingendoli a una competizione tra di loro, esasperando il tutto nella disperata ricerca di accaparrarsi uno dei pochi posti di lavoro, magari pregiato, ancora disponibili. Ora il discorso, quindi diciamo l'analisi della società è questa, poi sento e ascolto degli economisti, quindi chi spera un ritorno alle politiche economiche keynesiane, piuttosto che all'attuale libero mercato che scaturisce dalle scuole di Milton Friedman, piuttosto che di Von Haik o altri che a Keynes si sono contrapposti, ma la mia domanda è questa Ugo, ma è possibile che l'uomo oggi si riduca ad un mero problema commerciale, cioè che il problema o la soluzione della felicità dell'uomo sia trovare la giusta condizione del mercato, se debba essere liberista piuttosto che con il coinvolgimento dello Stato, ma l'uomo, la mia domanda è, è solo materia o è qualcosa di più? Siamo sicuri che la soluzione del problema materiale riporti l'uomo nel suo equilibrio vitale? Perché è anche vero e spesso non lo consideriamo che oggi la paura che i nostri giovani incominciano a vivere è la condizione stabile di miliardi di persone in questo mondo da decenni e questa condizione stabile di paura del futuro che si ha da decenni nella maggior parte degli abitanti di questo mondo, è dovuta anche agli italiani che hanno sperperato e sono stati collusi con un sistema economico e finanziario che è il capitalismo che di fatto ha distrutto gli altri popoli per rubargli le ricchezze che li ha mantenuti in uno stato cronico di sottosviluppo impedendone la crescita per poter attraverso la loro ignoranza e indigenza rubargli con le nostre multinazionali le materie prime. Quindi questo non possiamo non considerarlo come non possiamo non considerare se la natura dell'uomo sia meramente una natura fisica o se comprenda qualcosa di più pregiato, di più prezioso. Quindi dobbiamo per forza riconsiderare gli aspetti dottrinali, religiosi o filosofici se vogliamo sulla reale natura dell'uomo, sul reale valore della vita, che cos'è la vita perché esistiamo, cioè ritornare a quelle domande cardine che l'uomo si pone da millenni, ma laddove una società è completamente obnubilata in questi valori e alla fine si vede solo come mercato, solo come acquirente di merci, credo che la soluzione non la troveremo mai. Quindi il problema è che c'è una mentalità imperante che ha ancorato l'uomo alla sua mera condizione fisiologica, tra l'altro transitoria, c'è tra nascita e morte e non vediamo al di là del nostro naso, cioè l'uomo è qualcosa di più. Ora il problema è grave, siamo in terribile ritardo perché noi comunque per millenni o comunque negli ultimi secoli, se non vogliamo dire millenni perché in realtà nel passato c'è stato chi ha tentato di trovare una soluzione a questo problema, c'è qualcuno che ha pure dato la vita per darci la soluzione, cito un nome a caso, si chiamava Gesù Cristo e si chiama Gesù anche oggi perché è vivo e vegeto, per cui noi dobbiamo cercare una soluzione a un problema più elevato della natura dell'uomo. Oggi l'uomo anche in queste diatribe, come dicevo appunto Keynes piuttosto che Friedman, piuttosto che Von Hayek o altri, ma cerca una soluzione a dei problemi nel mondo delle considerazioni umane, delle teorie umane, quindi a tutti questi si è contrapposto poi Marx con la sua teoria del capitale che ha scatenato a livello storico quello che sappiamo, la guerra fredda, la controposizione tra il blocco comunista e il blocco liberista occidentale, ma l'uomo è solo questo o è qualcosa di più? Forse noi dovremmo riconsiderare delle cose che un po' ce le abbiamo confuse, ad esempio ci si combatte e ci si fa la guerra non solo per ragioni economico commerciali e di potere, ma ci si fa la guerra anche per condizioni religiose, il mio Dio è più bello del tuo, il mio Dio è vero e il tuo Dio è falso, domanda ma perché non consideriamo una volta tanto e cerchiamo di uscire da questo tunnel che non ci ha dato nessuna soluzione considerando un fatto che è la palissiano e che nessuno considera, ed è questo, che credo non sono leggi, sono chiacchiere umane e la vera natura di coloro che ci hanno portato certi discorsi non era creare religioni, ma era insegnarci delle cose che hanno attinenza più con la scienza che con la religione per come vista oggi. Quindi la prova di questo la vediamo, lo stavo dicendo, è un fatto banalissimo, i cristiani di qualsiasi confessione siano cattolici, protestanti eccetera eccetera, nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli islamici nascono, crescono, invecchiano e muoiono, i buddisti uguale nascono, crescono, invecchiano e muoiono, gli atei che non credono in niente nascono, crescono, invecchiano e muoiono, quindi ci sono delle leggi che vanno oltre l'umana natura e ci sovrastano, ci impongono un iter su cui noi non possiamo fare nulla. Quindi queste leggi, se hanno effetto sul corpo e quindi sono argomento di scienza, dovremmo considerare che forse come ipotesi di lavoro potrebbero avere effetto e potere queste leggi su ciò che è la natura trascendente dell'uomo. Quindi riconsiderare che è un'assoluta assurdità e stupidità accettare che lo spirito è ciò che comporta sia un credo e il corpo è ciò che comporta sia scienza. Ma se la vita del corpo ipoteticamente è causata dallo spirito che vivifica il corpo, che muore quando lo spirito va via, non sarà il caso di valutare che le leggi che governano il corpo discendono dalle leggi che governano lo spirito? E quindi uscire dai credo è considerare che l'uomo non è il corpo transitorio ma è lo spirito intelligenza che temporaneamente lo abita e addirittura lo vivifica. Quindi io non vedo, per quelle che sono le mie competenze e le conoscenze che io ho, io non vedo una soluzione al problema dell'uomo e tantomeno al problema del pianeta se l'uomo non riconsidera la sua reale natura che è non solo biologica materiale ma che è soprattutto trascendente spirituale. Quindi su questi discorsi gli uomini dovrebbero riunirsi e attraverso i loro comitati e organismi scientifici cercare finalmente di darci una risposta certa riproducibile in laboratorio. Questo è il vero problema che se noi non risolviamo non riusciremo a uscire dal pantano autodistruttivo nel quale ci siamo cacciati, cioè cerchiamo una soluzione nel mondo degli effetti che è il mondo materiale invece che cercarla nel mondo delle cause che il mondo spirituale. Ora queste cose non sono una novità amici cari, queste cose ce le disse già Giordano Bruno secoli fa, che noi abbiamo ceduto il governo della nostra vita a una mente fallace che ci inganna e ci sposta lontano dalla vera natura universale che è spirituale. E spirituale non è un credo, è una natura trascendente ma reale, tangibile e governata da leggi così come lo è il mondo immanente della creazione materiale. Se noi non facciamo questo cambio di valori e non investighiamo nel mondo delle leggi spirituali allo stesso modo con cui abbiamo investigato nel mondo delle leggi fisiche, noi da questa situazione non ne usciremo. Ne usciranno fuori e risolveranno il problema a coloro che si sono dedicati a questo studio che hanno capito come stanno le cose e hanno adattato, armonizzato la loro vita con queste leggi. Vedete quando la Santa Vergine appare e appare l'apparizione della Santa Vergine non è un fatto religioso, è un fatto scientifico, è un fatto sociale perché la Vergine appare per dire all'uomo ravvedetevi e non lo dice ai buddhisti, non lo dice agli islamici, non lo dice agli atei, lo dice ai cristiani. Ravvedersi non vuol dire cambiare religione, vuol dire rivedere il proprio stile di vita perché Cristo ci ha dato dei dettami e ancora prima ce li ha dati il Padre Eterno nel Monte Sinai con le tavole della legge e se andiamo a vedere queste regole che ci sono state dettate non sono regole religiose, non c'è niente di religione, non c'è il primo comandamento andrà in chiesa, il secondo comandamento farai la processione, il terzo comandamento farai la confessione, il quarto comandamento farai la comunione. Nel tavolo della legge c'è scritto non dare falsa testimonianza, non adulterare, non non commettere adulterio e riguardava solo il talo monuziale, non adulterare significa non adulterare l'acqua, non adulterare il cibo, non adulterare l'acqua, non adulterare la terra, questo significa quel comandamento. Il discorso dell'adulterio umano, quelli sono fatti privati nostri che poi ci ritroviamo, ma quel comandamento riguardava la creazione, non uccidere, eccetera, eccetera, quindi i comandamenti che ci sono stati dati sono stati traslati e incapsulati in discorsi stupidi e religiosi quando invece riguardavano semplicemente fatti sociali del buon vivere e del buon rapporto tra gli esseri umani. Quindi o noi usciamo da questa condizione di inganno assolutamente idiota oppure non avremo futuro, sono migliaia di anni che preghiamo, che facciamo orazioni, pellegrinaggi, confessioni, comunioni e tutto va sempre peggio, il che indica che quel comportamento è sbagliato. Allora, io sto dicendo che non bisogna prendere i santissimi sacramenti, certo che va bene andare in chiesa, fare la comunione, confessarsi, va tutto benissimo, ma dopo le nostre azioni di vita devono essere conseguenti a quel tipo di discorso. Se noi facciamo solo chiacchiere ma dopo la nostra vita è veramente una bestemmia di fronte alle leggi di Dio, ecco che le preghiere da sole non servono assolutamente a nulla. Quindi dobbiamo recuperare il vero senso della religiosità, della spiritualità che ho fatto pratico e concreto da svolgersi nelle nostre case, nelle nostre strade e in tutti gli ambienti dove l'uomo opera. Benissimo, è una spiegazione naturalmente eccellente, ma la domanda che viene di conseguenza è questa. Questa umanità ha sbagliato, probabilmente ha sbagliato tante altre volte, chissà quante volte l'umanità ha sbagliato, ma se ha sbagliato e c'è dentro di lei il seme della comprensione, tu sei forse con alcuni come te espressione di questa capacità di comprensione, cioè ci si può comportare diversamente. Come mai questa umanità non riesce a superare queste difficoltà, questo scoglio? Il passaggio da una verità corporea ad una verità mentale, spirituale, trascendentale. È sbagliata, è fatta male l'umanità o abbiamo avuto dei riferimenti poco incisivi? È sbagliata, è sbagliato non l'umanità, l'umanità è una creazione santa di Dio, quindi è perfetta nella sua intima natura. Il problema è che noi non sappiamo che cos'è l'essere umano in termini di spirito e intelligenza, non sappiamo come funziona, non sappiamo qual è il suo destino, qual è il suo ruolo nella creazione, quindi c'è un problema profondo di conoscenza di base sulla reale natura dell'uomo. Ora questo problema si può colmare, Cristo per quello è venuto duemila anni fa e non di meno, seppur con metodologie differenti, hanno tentato di farlo gli altri avatar che alla fine sono venuti per cercare di dare all'uomo degli strumenti pratici per soluzionare i problemi della nostra vita, ma oggi l'uomo per egoismo, per indifferenza ha accettato di sposare certe dinamiche, complice sicuramente la corruzione dell'istituzione religiosa che tutto ha fatto nella stragrande maggioranza lo dico, tranne che fare il proprio dovere. Ora il sacerdote è un termine, questa parola deriva da sacra docens che vuol dire insegnamento delle cose sacre, della scienza sacra, quindi se oggi il sacerdote non sa un fico secco della scienza sacra e tutta la sua vita è puro un ritualismo che si ripete uguale a se stesso giorno dopo giorno, è ovvio che l'insegnante non insegna più nulla di realmente valido, per cui bisognerebbe uscire da questa impasse e cercare di recuperare il vero senso della vita. Ora il problema è che le persone non hanno voglia, hanno paura e sperano che sia qualcun altro a togliergli le castagne dal fuoco, è un po' una situazione assurda, come uno che gli brucia casa ma spera che a togliergli, cioè a spegnere il fuoco siano i vicini di casa, ma io dico che se non si muove lui sicuramente i vicini di casa non gli verranno dietro. Il problema è difficile, non è facile, però alla fine se io vengo a sapere dai media che il mondo sta andando verso un'irreversibile autodistruzione, ho solo due scelte davanti, o decido di occuparmene e quindi di razionalizzare questo problema e vedere, visto che mi coinvolge, cosa io posso fare oppure posso rimanere indifferente, lasciare che le cose vadano come vadano, mi godo gli ultimi giorni e poi va a fansecchio. Questa è la situazione, io so che nell'universo c'è una legge e Cristo ce l'ha spiegata bene che dice chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Ora il mondo dell'invisibile, delle leggi dell'invisibile non lo conosciamo, ma questa legge che Cristo ci ha insegnato ci dice che laddove l'uomo incomincia a cercare con il suo spirito, con la sua intelligenza, con la sua forza, una soluzione a un problema, l'universo si muoverà per aiutarlo a risolvere questo problema. Quindi cosa serve? Buona volontà, niente di più. Io, per quanto non mi piaccia farmi portavoce di un esempio personale, ma alla fine quello che conosco meglio, io sono nato in Sardegna, in un paesino di bigli abitanti dove non c'era né l'edicola né la farmacia quando io sono nato. A casa mia non c'era la radio e la tv è entrata quando avevo 15 anni, per cui sono nato in un posto dove tutto c'era tranne che possibilità culturali, ma il mio desiderio, appena ho saputo che le cose cominciavano ad andare male, è stato quello di capire e anche di vedere se io a questo problema potevo dare un contributo e questa semplice spinta interiore mi ha portato poi a vivere delle cose assurde, delle cose impensabili e a comprendere dove stavano le cause e quali erano gli effetti. Quindi se è stato possibile a un figlio dei contadini della Sardegna, credo che sia possibile a persone che sono nati a Bari piuttosto che a Milano, piuttosto che a Torino. Quindi è solo un problema di buona volontà, non contano i titoli cattedratici, perché tutti siamo spiriti intelligenza, tutti siamo stati generati da Dio, è vero che ci sono diversi livelli evolutivi, ma io credo che ognuno possa dare il suo piccolo contributo alla soluzione del grande problema, basta solo desiderarlo e avere il coraggio di fare le scelte che questo desiderio comporta. E noi infatti ne stiamo parlando, ma diciamo che nella globalità dell'intelligenza abbiamo diversi, come dicevi tu prima, diverse posizioni con interessi diversi. Una popolazione mondiale che sta progressivamente aumentando, fra non molto saremo anche forse di più di 10 miliardi. E quindi tornando a quelle che sono, Piero Giorgio, le esigenze del corpo, purtroppo con esse dobbiamo confrontarci. Assolutamente vero. E allora potrà un'intelligenza essere autonoma, avere libertà di azione con la sofferenza del corpo e con i limiti che queste situazioni verranno proposte fra non molto. Ugo, il problema ovviamente non è per una persona che mai si è posta di fronte a questo dilemma, capisco che di primo acchitto non è facile comprendere. Quello a cui invito io è iniziamo intanto a fare un piccolo passo, iniziamo ad informarci, iniziamo a capire dove sta l'inganno, iniziamo a contattare, a parlare con quelle persone che vediamo intorno a noi, che qualcosa sembrano capirci più di noi. Insomma, incominciamo a fare qualcosa. Io aggiungo che in tutto questo poi entrano in gioco forze potentissime, visibili e invisibili, palesi o occulte che ci aiutano in questo percorso di consapevolezza e anche di impegno per cercare di risolvere il problema che noi abbiamo. Quindi il fatto anche dell'indigenza uvo non è un fatto tecnicamente connesso alla natura del pianeta. Il pianeta ancora ci dà tanta abbondanza. L'occidente butta via annualmente una quantità di cibo tale per cui noi sfameremo tutti gli affamati del mondo, ma questo cibo viene distrutto perché ne abbiamo troppo e perché bisogna mantenere i prezzi del mercato. Quindi laddove un ente artificiale come l'economia comanda l'ente naturale, è ovvio che noi l'ente naturale lo andiamo a distruggere perché le risorse fisiche del pianeta sono finite mentre la produzione di denaro è infinita. Quindi bisognerebbe capire il discorso dell'economia cos'è. Vi do un paio di numeri giusto per capire la spaventosa truffa e lo spaventoso inganno a cui siamo sottoposti. Dagli anni 80 a oggi l'Italia ha pagato più di 3 mila miliardi di debito pubblico e ne abbiamo 2.200, quindi ci avanzerebbero quasi mille miliardi. Perché questo debito pubblico non si è abbattuto? Come mai oggi gli euro ce li presta un istituto privato come la banca europea? Perché noi non siamo padroni della moneta? La moneta non è ricchezza in se stessa, la moneta è solo il misuratore della ricchezza prodotta dal nostro lavoro. Quindi laddove oggi vale di più il metro piuttosto che l'abito che il sarto ha creato col suo lavoro c'è qualcosa che non quadra. L'umanità ha perso completamente il senno e si fa imbambolare da falsi discorsi dove problemi reali non ce ne sono. Il denaro è solo carta, anzi nemmeno oggi abbiamo che la quantità di denaro fisico esistente nel mondo è meno del 3%. Oltre il 90% sono solo cifre luminose digitate su una tastiera. Quindi non ci può essere carenza di denaro perché il denaro è un prodotto umano, lo facciamo noi, ne possiamo creare quanto ne vogliamo. Se c'è scarsità di denaro c'è evidentemente qualcuno che ha un progetto per cui questo denaro non ce lo fa arrivare perché non ce l'abbiamo noi nelle mani. Quindi noi pensiamo ancora di essere il popolo sovrano ma non siamo sovrani di un fico secco perché i padroni del denaro possono corrompere chiunque, possono infiltrare in qualsiasi sistema i loro sodali. Quindi ci sono problemi gravissimi della vita quotidiana che le persone non ne hanno la minima cognizione. Penso che già non sapere che cos'è il denaro e come funziona è una situazione per cui tu il tuo problema fisico non lo risolverai mai. Io vedo che le pere continuano a crescere sugli alberi, le mele pure. Invece siccome c'è un problema supposto economico vedo che i contadini italiani distruggono le loro derrate perché magari oggi grazie ai trattati capestro europei dobbiamo importare le arance dalla Spagna piuttosto che dal Marocco o da altri posti. Quindi c'è un fattore di gestione della società umana che è in mano a dei veri criminali che noi non riusciamo a combattere, non riusciamo a identificare perché siamo passivi. Quindi oggi non è più possibile ipotizzare che ci possa essere una liberazione anche materiale della nostra vita se non passa attraverso una conoscenza sufficientemente chiara di come funzionano i sistemi ai quali soggiacciamo, primo fra tutti il sistema denaro. Noi siamo in mano a criminali, è stato fatto un golpe bianco laddove Berlusconi è stato tirato giù, per quanto io non amo i Berlusconi ma comunque era un presidente eletto, è stato tirato giù alla forza da un presidente che tutto ha fatto tranne che gli interessi degli italiani, Giorgio Napolitano e ci è stato messo un pseudo esperto che si chiama Mario Monti ma che tutto ha fatto tranne che risolvere il debito pubblico. Quindi se questi potenti non risolvono il problema o sono incompetenti o sono lì per fare qualcos'altro, quindi io non devo essere uno scienziato per capire che quello il suo lavoro non l'ha fatto, quindi io come cittadino mi devo ribellare, devo trovare delle soluzioni, mi devo unire agli altri cittadini e fare qualcosa per eliminare una classe dirigente che si è manifestata o incompetente oppure nostra nemica. Ma le persone questo non lo fanno e io non capisco perché, non lo giustifico. Infatti bisognerebbe potenziare le capacità interpretative della gente che ha e comunque continua ad avere il popolo, una massa morfa, una posizione di passività, perché per vincere e superare i comportamenti di questa gente credo che serva gente altrettanto scaltra e altrettanto preparata e altrettanto intelligente in segno a poco. Io sono d'accordo fino a un certo punto su questo Ugo perché comunque le leve del sistema ce li abbiamo noi, il mercato funziona se noi compriamo, se noi non compriamo più il mercato si ferma. Perciò siccome è evidente se noi non abbiamo il controllo del debito e il debito ci ucciderà tutti, noi dobbiamo cercare di capire cos'è questo debito, da dove scaturisce e fermare la catena commerciale per imporre al sistema un cambio di ruota. Lo possiamo fare noi con le nostre scelte, ma se siamo tutti divisi e tutti uno contro l'altro e quindi ci scanniamo tra noi per accaparrarci i pochi posti disponibili che questi delinquenti ci rendono disponibili, noi non ne verremo fuori, sarà un gioco al massacro. Siamo il burattino nelle mani del burattinaio astuto, ma nemmeno tanto perché dopo alla fine gli scandali li abbiamo ascoltati tutti nei Tg, Montepaschi di Siena è stato svuotato da una classe dirigente che ha dissanguato i conti dei correntisti. Sì, ma noi sentiamo dire le banche falliscono, ma non falliscono i banchieri, la banca alla fine sono quattro muri e qualche scaffale e un po' di documenti, non è un ente fisico, la banca è un ente giuridico e fallisce quello, non il banchiere che si è rubato tutto, questo noi dobbiamo comprendere. E poi che fanno? Svuotano loro le casse delle banche e poi pretendono che siamo noi con i nostri risparmi giustamente sudati a ricoprire i debiti e i buchi che loro hanno creato, per cui non lo so, ma cosa dobbiamo vedere per capire che queste zecche ce le dobbiamo togliere di torno? Ma se non capiamo manco questo, Ugo io non so cosa dire, l'essere umano ha perso totalmente la ragione e si fa incantare da un pifferaio che tutto sommato tanto magico non è, visto che le loro malefatte finiscono sulle pagine dei quotidiani o nei rotocalchi televisivi. Però le persone oggi si sentono impotenti ma in realtà hanno solo paura, hanno paura di perdere quel poco che si sono conquistati e non riescono a razionalizzare che di questo passo pian piano loro stanno prendendo tutti e prima o poi toccherà a te. Quindi o noi ci difendiamo come popolo oppure arriverà il nostro turno, uno per uno andremo sotto. I numeri degli imprenditori e delle persone che perdono il lavoro, che si suicidano non viene più detto e sono centinaia all'anno. Dobbiamo aspettare che arrivi il nostro turno per svegliarci? Non lo so, a voi la risposta, Ugo. E infatti questa gestione di questa politica qualcuno ci dice è fatta da gente molto ignorante, a volte un po' competente ma comunque molto egoista, quindi è il minimo che si possa fare. Queste gestione sono i burattini di gruppi dirigenti dell'altissima finanza mondiale, che sono i Bilderberg, che sono la Trilateral Commission, che sono tutti quei gruppi di cui comunque anche i nostri notabili ne fanno parte, Aspen Insti, tutto eccetera eccetera. Lo sappiamo, Mario Monti è massone, sta nella Trilaterale, sta nei Bilderberg eccetera eccetera, Gianni Letta sta nella, scusate, Enrico Letta sta nell'Aspen Institute, ci stanno importanti giornalisti come la Gruber, quindi non è che dobbiamo andare a cercare lontano, dovremmo solo informarci un po' di più e capire meglio la società nella quale viviamo, anche perché tutto sommato noi stessi siamo la società, noi non siamo un ente a parte della società, noi siamo la società. Ecco, va bene, queste notizie, queste informazioni credo che le abbiano anche loro all'interno dei gruppi massonici e oltre, allora se è vero che siamo sulla stessa barca abbiamo un problema non lontano, imminente, un problema che promette coinvolgere anche loro, secondo te sono loro preparati ad affrontarlo? Hanno i mezzi per farcela? E qui l'apparente discrasia, Ugo, la risolviamo tornando nel mondo spirituale, nell'ambito di un mondo che è reale, così come è reale Gesù Cristo che in questo momento è sicuramente da qualche parte a fare qualcosa, altrettanto reale è Satana, ma fino a che noi siamo agganciati a spiegazioni sterili medievali di questa entità, noi non ne veniamo a capo, ma questi esseri esistono, esistono e hanno potere e hanno potere e lo applicano e lo usano nella nostra società, quindi noi dobbiamo capire qual è il gioco e che ruolo giocano. Quindi ci sono oggi, come ci sono state nel passato, entità il cui interesse, da un punto di vista però spirituale, non materiale, è distruggere l'umanità e lo stanno facendo con tutti i mezzi. Noi sappiamo dalle scritture e anche dalle opere artistiche come il Faust di Goethe che si fanno i patti col diavolo, ma questo è vero, se noi andassimo a vedere le iconografie, i simbolismi usati ad esempio dai grandi divi dello spettacolo, noi vedremo che questa gente, questi simboli li usa, li rende manifesti perché questo indica che loro sono un'appartenenza a qualcosa e questo qualcosa è un progetto e questo progetto non ha, Ugo, ragione nel mondo materiale perché laddove oggi 8 famiglie hanno il 40% della ricchezza mondiale da solo, ma che ci faranno di tutti questi soldi? Non li spenderanno manco in 100 vite, quindi c'è qualcosa che va oltre, c'è qualcosa che nella Bibbia è spiegata e c'è una lotta tra bene e male il cui premio è l'anima dell'uomo. Quindi oggi non è comprensibile su un piano puramente materiale laddove il mondo è in autodistruzione e l'autodistruzione coinvolgerà anche i ricchi, i ricchi e i potenti che sono gli artefici di questo piano diabolico, ma c'è una ragione superiore che risiede nel mondo spirituale, che risiede nell'eternità della vita dello spirito di ciascuno di noi, quindi se noi, ribadisco, continuiamo a cercare le risposte nel mondo degli effetti, non ci capiremo mai nulla, la dobbiamo cercare nel mondo delle cause, quindi esiste un progetto, questo progetto l'ha fatto Dio, su cui abbiamo vaga percezione di cosa sia Dio, che personalità ci abbia, cosa lui accetta e cosa lui rigetta, quindi o noi ci dedichiamo realmente a capire queste cose che sono cose reali, che hanno a che fare con la nostra spesa quotidiana, con il nostro mandare i figli a scuola, con lo comprarci la macchina nuova, farci le vacanze, il mondo spirituale è la causa prima di tutto quello che noi facciamo, quindi o noi comprendiamo questo progetto oppure non ci capiremo nulla. E qual è il progetto? Il progetto l'ha stabilito Dio sin dalla notte dei tempi, questo è scritto nella scrittura, il progetto l'ha stabilito Dio e il suo progetto è l'instaurazione di un regno di pace, di fratellanza e di equità in questo pianeta, ma ha bisogno per creare questo regno di persone garantite, di persone stabili, di persone che rispettino la legge, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non adulterare, eccetera, eccetera. Satana, il demonio o Lucifero, anzi meglio tutte e due perché sono in collaborazione, hanno il compito di scovare e rendere manifesti a Dio attraverso le scelte personali, i corrotti, i corruttori e i corruttibili, questo è il compito di Satana e di Lucifero. Quindi Dio sta selezionando l'umanità attraverso i suoi studenti, i suoi strumenti e questi strumenti hanno un tempo finito, ora si è parlato, io ne ho parlato tanto assieme a Giorgio Bongiovanni, a Flavio Ciucani in questi mesi, dei cento anni di potere a Satana che sono scaduti il 13 ottobre del 2017. Che significa questo? Significa che la selezione dell'umanità si è quasi conclusa, che Dio ha contato i suoi e ha contato quelli che non gli appartengono, c'è il grano e la gramigna, quindi Dio si prende il grano e ci farà il nuovo regno e non sono fatti questi religiosi, sono fatti sociali, sono fatti storici, il nuovo regno non sarà una nuvoletta sulla quale andremo a suonare l'arpa quando ci troveremo nell'aldilà, il nuovo regno è una nuova società laddove giustizia, pace e fratellanza saranno i pilastri fondanti, ma per fare questo Dio ha bisogno di persone che rispettano la legge, che rispettano il prossimo, chiamano il prossimo come se stessi, quindi questo processo sta giungendo a termine, Dio i suoi li ha trovati e gli altri vivranno il destino che è conseguente alle scelte e al modo con cui hanno vissuto nella vita materiale, questo è il progetto, alla fine non era tanto difficile, tutto sommato qualche volta sicuramente l'avremmo sentito raccontare da un sacerdote piuttosto che da un catechista, ho letto oggi un articolo dove pare che Papa Francesco abbia detto che non è possibile che Dio ci metta in tentazione, ma io domando a sua santità, ma scusi, ma lei la parabola di Giobbe l'ha mai ascoltata? Se la vado a leggere, perché se lei fa discorsi così che il capo della chiesa e non ha capito l'ABC del problema, cioè la relazione tra Satana, Dio e l'uomo, mi sa che come capo della chiesa fa un po' acqua, perché questo dovrebbe essere l'ABC di un grande capo che ha sotto di sé oltre un miliardo di fedeli, Satana è uno strumento di Dio, lo spiega benissimo la parabola di Giobbe, quindi è Dio che ci mette in tentazione attraverso Satana per vedere se noi gli siamo fedeli o meno, questa è la verità della recita della frase della preghiera del Padre nostro, dobbiamo capirla, dobbiamo capirla perché Dio se vuole fare il regno, lo ribadisco, lo deve fare con una certa qualità di persone, non la può fare quei pedofili, quei mafiosi, quei politici corrotti, se non ricomincia tutto da capo, quindi la deve fare con le persone fedeli e la fedeltà alla legge Dio ce la fa rendere manifesta attraverso la tentazione che ci fanno Satana e Lucifero, è ovvio che Dio non vuole il nostro male perché alla fine né Satana e tantomeno Lucifero ci puntano alla pistola alla testa per fare commettere il peccato, cioè l'infrazione alla legge, ce lo consigliano, ce lo istigano nel cuore, quindi se noi siamo fedeli alla legge, la loro azione decade, non ha nessun effetto, quindi la tentazione non è il male dell'uomo, la tentazione è la verifica dell'uomo, quindi Dio ti può verificare? Certo che sì, chi può controbattere a Dio? Satana non può essere il nemico di Dio, visto che Dio tra le sue vari attributi è onnipotente, quindi se è onnipotente comanda tutto e se fa delle cose c'è una ragione ben precisa, quindi una volta che noi comprendiamo la ragione del perché Dio fa così, comprendiamo benissimo il ruolo di Satana e di Lucifero nei nostri confronti. Io suggerirei alla nostra amica di lavoro, Antonella, di cambiare il titolo di questa trasmissione, perché siamo partiti con l'inquinamento ambientale, difficoltà Il discorso che ha fatto Pier Giorgio è assolutamente attinente. Io guarda, noi possiamo discettare quanto vogliamo sull'inquinamento, sulla distrazione degli ecosistemi, ma dobbiamo arrivare alla causa e la causa è lì, non è da un'altra parte. La soluzione dei problemi dell'uomo non sono le nuove tecnologie, piuttosto che non so cos'altro, piuttosto che mangiare vegetariane o piuttosto che carne, non è lì la soluzione del problema. La soluzione del problema è che l'uomo finalmente comprenda la sua reale natura, comprenda la sua eternità, comprenda chi è Dio e comprenda chi è il demonio. Se noi non comprendiamo questo, non risolveremo il problema dell'inquinamento. Amici, questo ce lo dobbiamo avere chiaro. Le persone sperano nella free energy, sperano in fesserie, non sarà la free energy a risolverci il problema, sarà solo se noi partoriremo come umanità l'uomo novus di cui parlava Giordano Bruno. Non si può cambiare la società o il pianeta se prima non si cambia l'uomo che è l'essere piramidale delle strutture biologiche del pianeta. Quindi assolutamente noi qualsiasi problema andassimo oggi ad analizzare della vita dell'uomo, alla fine arriveremo da qualsiasi parte e partiamo qui. L'uomo deve capire se stesso e capire colui che l'ha creato. Se noi non facciamo questo, non risolveremo nessun problema. E in questo tutto quello che Cristo ha fatto ha assolutamente logica e ragione perché Cristo è venuto proprio a insegnarci la legge. Lo dice lui, io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a completare la legge e i profeti. Mica ha detto che è venuto a fondare una religione. Cristo è stato ucciso dalla classe sacerdotale di allora. Cristo era un laico, era figlio di un carpentiere che si chiamava Giovanni, per quanto poi partorito nel ventre di sua madre dallo Spirito Santissimo. Ma Cristo è venuto a portarci un insegnamento, non è forse lui il maestro dei maestri. E che cosa ci ha insegnato il maestro dei maestri? Ci ha insegnato la legge che è scritta nel Vangelo, la legge che governa la natura spirituale dell'uomo. Questo è venuto a insegnarci Cristo. Quindi noi siamo in terribile ritardo rispetto alla situazione nella quale ci troviamo e rispetto alla vera natura che è l'essere umano. O la scopriremo e ci porremo in armonia con queste leggi, o periremo inesorabilmente, con buona pace delle tipologie di alimentazione piuttosto che di energie che usiamo. Quindi i pianeti che sono nel nostro universo e che sono riusciti a superare questa fase industriale o post-industriale, condizionata anche da inquinamenti ambientali naturalmente oltre che quelli mentali, hanno superato questo esame, hanno superato queste difficoltà e sono riusciti a trovare una strada. Sì, alcuni, tantissimi sì, Ugo. Purtroppo sappiamo e abbiamo notizia che molti altri no, si sono autodistrutti irrimediabilmente. Comunque l'autodistruzione materiale non corrisponde a un'autodistruzione spirituale per cui quegli spiriti che hanno commesso questi terribili peccati, comunque dopo un periodo di purificazione si rievolveranno in altri luoghi, in altri mondi. Nell'universo c'è spazio per tutti. Tra l'altro io consiglio agli ascoltatori di leggere un bellissimo libro il cui titolo è Ho incontrato gli extraterrestri e l'autore si chiama Stefan Denaerde, che è uno pseudonimo perché in realtà l'autore si chiamava Adrian Beers ed era un facoltoso dirigente d'azienda olandese che ebbe un incontro con questi esseri provenienti da un mondo lontano, quattro anni luce dalla terra, che si chiamava Jarga. Ebbene, questi extraterrestri, tra l'altro con un aspetto fisico che a noi sembrerebbe un po' nimalesco perché avevano la testa come i cavalli, molto somigliante a quella dei cavalli, fanno un'affermazione straordinaria e dicono se voi terrestri con la tecnologia di quel periodo, considerando che il contatto è venuto nel 1967, se voi terrestri con la tecnologia attuale di quel tempo, quindi di fine anni 60, utilizzaste le nostre logiche, i nostri standard, il vostro pianeta potrebbe tranquillamente sopportare 75 miliardi di abitanti, 75 miliardi di abitanti, considerando che il loro pianeta, il pianeta Jarga, è un pianeta soprattutto d'acqua, per quanto ci dicono gli extraterrestri, è la sommatoria dei territori, delle isole che vi si trovano è uguale al territorio dell'Australia, ma sono 300 miliardi, 300 miliardi su un territorio grande complessivamente quanto l'Australia. Ebbene, quando Adrian Bers attraverso un monitor dentro il disco volante vede in volo il pianeta Jarga, l'impressione che ne riceve è di un mondo poco popolato, talmente era razionale e ben distribuita l'urbanizzazione e il concetto urbano era non delle megalopoli, ma della periferia portata alle sue estreme conseguenze, con moduli abitativi distanti l'uno dall'altro che potevano ciascuno contenere 10 mila persone. Quindi noi non abbiamo un problema reale di incapacità del pianeta di sostenere la vita umana e la vita del mondo naturale, noi abbiamo un gravissimo problema di organizzazione, di produzione e distribuzione delle risorse, oggi i mezzi tecnologici, lavatrici, televisori sono costruiti per rompersi, non sono costruiti per durare, quindi abbiamo un invecchiamento programmato artificiale dei beni di consumo, per cui noi sprechiamo le risorse del pianeta, non siamo dei risparmiatori oculati, quindi c'è da rivedere completamente tutte le logiche produttive, tutte le logiche distributive e soprattutto tutte le logiche di produzione del denaro, laddove il denaro oggi viene confuso con la ricchezza, invece il denaro è solo un misuratore della ricchezza, noi siamo come un sarto impazzito che crede di essere ricco perché ha la cassaforte piena di metri, quando io sento che c'è una carenza di denaro è come se sento un ingegnere stradale che mi dice non possiamo più fare strade perché ci siamo finiti i chilometri, ma delle assurdità nelle quali ci cadiamo perché purtroppo siamo incompetenti, incompetenti e lo ribadisco, sottoposti all'amministrazione coatta e non avete idea di quale verità assurda sottenda a questa mia affermazione, ma non è il caso che ne parli adesso. Beh, sarà l'occasione per incontrarci di nuovo, cogliamo la palla al bazzo insomma. Sì, posso solo dire che in Italia esistono 350 mila leggi circa e ne vengono usate solo 10 mila e sono tutte contro di noi, esistono tantissime leggi che potrebbero tutelare i nostri diritti, perché ci sono dei trattati internazionali firmati, compresa la nostra Costituzione, che dichiara e affermano e difendono che noi siamo dotati di diritti inalienabili, invece preferiamo fare i cittadini e il cittadino ha benefici, privilegi e adesso non mi ricordo la terza cosa, benefici e privilegi e vantaggi e servizi, invece noi non siamo cittadini, noi siamo abitanti del suolo italico e abbiamo diritti, perché laddove sottoposti all'amministrazione coatta i privilegi, i servizi e i benefici li decide chi ci comanda, invece noi in quanto persone fisiche esistenti in vita abbiamo dei diritti inalienabili, inalienabile vuole dire che certi diritti non ti possono essere tolti attraverso decreti legge piuttosto che normative, il diritto inalienabile è un diritto che ti attene per il semplice fatto che tu esisti, ma se noi siamo incompetenti e non capiamo nulla di tutto questo, ecco che ci facciamo relegare nel ruolo di cittadini, cioè di schiavi e siamo soggetti a privilegi, benefici e servizi che i nostri capi decidono volta per volta quelli che ci vogliono dare o quelli che ci vogliono togliere, ledendo i nostri diritti inalienabili, ma solo perché noi accettiamo di non essere persone viventi, ma di essere dei cittadini, cioè un'invenzione burocratica. Pier Giorgio, a sintesi di tutto il discorso che tu hai fatto, sul quale non voglio esprimere un giudizio usando un aggettivo qualificativo, perché non lo trovo, francamente non lo trovo. L'importante è che non mi dici che ho detto fesserie. No, no, è proprio il contrario e non riesco a trovare un termine adeguato per esprimere il contrario, è questo il problema. Mi pare di poter capire che l'uomo ha perduto se stesso e se non ritrova la sua vera natura, natura che hanno fatto di tutto per farci dimenticare, dalla banalizzazione del termine amore, dalla banalizzazione del termine credo, fede, Cristo, sono tutte parole che utilizzate oggi nella società moderna, in un qualsivoglia contesto, suscitano ilarità. L'uomo ha dimenticato quella della sua vera natura. Allora tu che tanto ti spendi, perché invece si recuperi questa memoria, perché come giustamente dicevi, se non recuperiamo questa consapevolezza, perdiamo il nostro pianeta, pianeta vivo, pianeta che sta reagendo, stiamo osservando gli eventi catastrofici che si stanno verificando quasi quotidianamente, mi viene da dire, terremoti, alluvioni, nubi fragili, trombe d'aria, sta accadendo di tutto, eppure ancora non si ha la voglia di capire la vera ragione di questi avvenimenti. Certo, perché la paura è paralizzante, quindi bisogna uscire dalla paura. Diceva Paolo Borsellino, chi vive nella paura muore ogni giorno, chi ha coraggio muore una volta sola. Chi ha coraggio muore una volta sola. Poi in relazione al fatto giusto che tu hai detto, che la maggior parte delle persone quando sente certi argomenti si mette a ridere, io vorrei ricordare un vecchio detto latino che diceva, risus abundat inore stultorum, poi ognuno se la canti e se la suoni come vuole. Come vi pare, il problema è che gli stolti sono parecchi, soprattutto coloro che occupano posti decisionali, coloro che decidono sono stolti. C'è una profezia della stigmatizzata Teresa Neumann che disse, ho visto l'uomo, ho visto il mondo affidato a bestie orrende, il mondo affidato a bestie orrende, con il corpo di serpente e la testa d'asino, cioè i capi del mondo saranno, sono in questo tempo persone crudeli, hanno il corpo di serpente, ma stupide perché hanno la testa d'asino. Mi perdoneranno gli ascoltatori, non me ne vogliate, ma non posso fare a meno di dirlo, i veri stupidi siamo noi, siamo noi che consentiamo ancora a queste persone di regolare le nostre vite e questo è il problema vero. Se la spinta non parte dal basso, l'alto rimarrà esattamente lì dove è. Certo, ma anche per il solo semplice motivo che le vittime siamo noi, non loro. Quindi per pur istinto di sopravvivenza una soluzione la dovremo trovare. La soluzione è nel ritrovare la nostra natura. È una buona occasione, ascoltatori, si presenta soprattutto per gli abitanti di Puglia, Basilicata e dico anche Calabria perché tutto sommato non siamo lontanissimi, si presenta proprio domenica 10 dicembre perché Pier Giorgio, assieme a Giorgio Bongiovanni che vive la sua esperienza di stigmatizzato e assieme a Flavio Cucani che è uno storico conosciuto dal pubblico di Radio Science come te, Pier Giorgio e come Giorgio naturalmente, sarei da Martina Franca, questa domenica 10 dicembre alle 14, presso l'Hotel Park San Michele in Via Carella 9. Questa è un'ottima occasione per chi ancora non avesse avuto la possibilità di ascoltare Giorgio, Pier Giorgio e Flavio, è un'ottima occasione per tentare di recuperare la nostra natura e quindi tentare di recuperare la nostra vita e la nostra vita in relazione al pianeta. Questa conferenza Pier Giorgio ha come tema centrale naturalmente la profezia di Fatima 1917-2017, questo è il titolo della conferenza, la fine dei cento anni del potere di Satana. In chiusura Pier Giorgio, ti rivolgo alla domanda che è stata giustamente iscritta sulla Locandina, quale futuro? Il futuro dipende dalle nostre scelte Antonella, nel suo progetto Dio ha determinato attraverso la scelta del libero arbitrio dell'uomo due finali, uno bello, il nuovo regno e uno un po' meno bello che un periodo di lunga sofferenza che vivranno le persone che hanno deciso di mettersi contro le leggi universali. Questo è quello che ci aspetta, per cui avremmo alcuni anni negli anni prossimi venturi e non tra lontanissimo, ma a breve, già è cominciato, avremo quindi maggiori catastrofi, maggiori squilibri sul piano naturale, già lo stiamo vedendo, ho visto oggi un video di un tornado che si è battuto su Sanremo qualche giorno fa, avremo maggiori instabilità a livello geologico e quindi gravi terremoti, siamo in una china pericolosissima di tensione internazionale, laddove si è ricreato un blocco orientale formato da Cina, paesi arabi e Russia e un blocco orientale formato da Cina, Russia e paesi arabi, soprattutto l'Iran, la Siria ovviamente, è un blocco occidentale nel quale all'interno vi sono Israele, gli Stati Uniti d'America e tutta l'Europa, il rischio gravissimo e questa parola già viene usata da molto tempo, da qualche anno, è una terza guerra mondiale combattuta con armi atomiche, quindi la prospettiva del nostro futuro è molto fosca, ma io che sono un ricercatore nell'ambito di tematiche non solo sociali e ambientali, ma soprattutto spirituali e cosmiche, ho la certezza assoluta per i dati, non i credo, per i dati scientifici provenienti da vari ambiti o in mano, che ci sarà un intervento superiore di forze potentissime, cosmiche e divine che impediranno all'uomo di distruggere totalmente il pianeta dove abitiamo, quindi avremo un periodo di gravissima sofferenza, per cui io non pretendo di essere creduto, lo vivremo e lo vedremo nel nostro quotidiano, dopodiché ci sarà questo straordinario evento che sarà la seconda manifestazione fisica di nostro Signore Gesù Cristo con i Suoi angeli, chiamiamolo pure contatto cosmico se ci piace di più e finalmente dopo verrà instaurato anche in questo marturiato mondo una società basata sui valori della pace, della fratellanza, della giustizia e della condivisione. Ora se posso vorrei dire ai radioscoltatori che comunque da qualche anno ormai ho reso disponibili gratuitamente alle persone un certo numero di testi in formato elettronico per aiutarle ad iniziare un percorso di studio in quest'ambito di queste sublime scienze che attengono alla natura spirituale e divina dell'essere umano e anche vi sono molte analisi sociali e strutturali che fanno gli extraterrestri per cercare di spiegare all'uomo quali sono le vere cause del disastro umano e quali le possibili soluzioni. Chi ne avesse voglia, chi li desiderasse, ribadisco sono gratis, basta che mi scrivi a questa mail info-piergiorgiocaria.it, scrivetemi, chiedetemi questi volumi e io ve li mando con tutto il cuore gratuitamente. E in più Pier Giorgio ricordiamo anche ai radioscoltatori il tuo canale YouTube? Ah sì certo, il mio canale YouTube dove ci sono tantissime conferenze sui più svariati argomenti storici, cosmici, spirituali che è Pier Giorgio Caria 59, questo è il mio canale YouTube, anch'esso gratuito, iscrivetevi così aiutate il canale a espandersi perché questa informazione, io che sono un ricercatore a livello internazionale, vi garantisco ce l'hanno in mano pochissimi ricercatori, quindi è un'occasione ghiotta perlomeno di farsi un viaggio un po' strano in tematiche che sono spesso ritenute dei credo oppure solo delle passioni, invece vi assicuro che sono tematiche importantissime che attengono al successo o al fallimento della nostra vita. Perfetto Pier Giorgio, per ulteriori approfondimenti mi permetto anche di ricordare agli ascoltatori il sito di Giorgio Bongiovanni, giorgiobongiovanni.it sul quale tra l'altro Pier Giorgio per il ricollegarci e per avvallare qualora fosse necessario quello che è detto fino ad ora, sono stati pubblicati proprio quest'oggi degli articoli interessanti, articoli naturalmente che riguardano notizie pervenute dal mondo, ad esempio Germania, 222 piloti si rifiutano di rimpatriare i migranti espulsi, oppure ancora Giappone tra suicidi e apatia, i mali di una società iperattiva, questo credo che sia assolutamente attinente a quanto detto sino a questo momento da te. Ancora abbiamo 5 anni di proroga per il grisofato, l'Europa ha tradito il mandato dei cittadini, anche questo assolutamente attinente a quanto detto sino a questo momento, per cui augurandoci Pier Giorgio che la tua opera di divulgazione riesca a far trovare ad ognuno il coraggio di ritrovare se stesso, scusate il visticcio di parole, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi naturalmente e visto che Martina Franca è vicina, noi ci vediamo domenica. con vero piacere, sono io che vi ringrazio, Ugo, Antonella e tutti gli altri collaboratori e saluto con affetto e simpatia tutti coloro che mi hanno supportato fino a questo momento. Grazie per Giorgio, il lavoro immenso che fai, ringraziamo naturalmente anche tutti coloro che ti sostengono in questo viaggio e ci vediamo presto domenica, grazie ancora. Grazie a voi, a presto. Ciao Piero, a presto. Ciao. Ciao. Allora, nel frattempo vediamo che è arrivato il nostro Massimo Bonella, editorialista di pianetaogitv.net da Venezia, ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao Antonella, ciao Ugo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, qui dalla redazione di pianetaogitv. Se volete vi do gli anticipi del notiziario delle 45 istri oggi. Naturalmente Massimo. Allora, grazie dunque Antonella, un saluto anche alla regia centrale a Rosario Moreno, Ugo Moreno. Dunque a breve parleremo di Gallesano, nuova seduta dell'Assemblea Unione Italiana, a seguire eventi di novembre e dicembre di Istria Nobilissima. Poi ancora Fiume, Dignano, Pola, cinquantesimo Istria Nobilissima, Umago e Buie, 70 anni delle comunità degli italiani, poi Visegnano, 25 anni della comunità degli italiani, Umago, voci nostre. Fiume, dramma italiano. Poi abbiamo due flash, precisamente dalla cittadina di Lusin Piccolo e da Pordenone, che ha un collegamento con la minoranza italiana che vive nella vicina regione dell'Istria. Dunque, alle 10 ore 40, io vi restituisco la linea, ricordo solo per chi mi conosce, che a breve, rimanendo nel tema che è molto importante, che avete trattato con riferimento appunto alla madre Terra, che è sempre più martoriata, gli animali che vengono praticamente sterminati, ecco, io farò proprio in una delle prossime trasmissioni, quelle televisive che vanno anche su digitali terrestri, aprirò lo studio proprio agli animali, perché sarà una cosa simbolica, ovviamente, ma lo farò, e in studio con me ci sarà qualcuno di loro, che praticamente proprio gli animali sono loro che dovranno additare l'uomo di questo pianeta che sta distruggendo tutto. Pensate un po' agli animali che fanno queste osservazioni all'uomo, praticamente. L'uomo, quando io penso ad esempio alla bibisezione, o alla caccia, tanto per dire un'altra, ma ce ne sarebbe una lista che non finisce più, ok? Cioè, io dico a queste persone che quando incontrano qualsiasi tipo di animale, di animalino che è per strada, dovrebbero vergognarsi di se stessi, nel momento in cui automaticamente, nel momento in cui vedono un animale, dovrebbero vergognarsi di se stessi, penso che sia stato molto chiaro. Quindi, prossimamente lo farò in studio, lo studio aperto, farò venire qui, adesso vediamo chi e come, eccetera, e io parlerò, ovviamente, io parlerò per loro, ok? E sarà una cosa simbolica, ma molto forte, trasmetterà un messaggio molto, molto pertinente a quello che sta succedendo su questo pianeta. Anzi, complimenti a voi di questa trasmissione molto interessante. Vi restituisco la linea del 19.42. Massimo, attenzione a questo annuncio, perché tu sai che soprattutto nell'ultimo periodo c'è una certa, come dire, tendenza a farsi paradini di cause di questo genere, ma tutto questo poi non fa altro che ingrassare il bagaglio di voti di qualche di un altro. Non so se sono stata sufficiente… Guarda, sei stata chiara, per quanto riguarda il discorso della politica che fa schifo, ok? Cioè, a me non mi interessa niente, voglio essere sopra alle parti, io farò proprio questa cosa qua. Ma no, ma infatti lo dicevo proprio per sottolineare la bontà e la genuinità della tua iniziativa, perché sai, adesso è diventato molto semplice farsi paradini animalisti piuttosto che vegani. C'è un articolo. In realtà c'è ben altro dietro, quindi stiamo anche attenti a quello che ci propongono. C'è un articolo, una ricerca che ci dice che le galline ci guardano e ci giudicano. E hanno ragione. Non voglio sapere qual è la loro opinione, preferisco non saperla. Bene, alle 19.43 non sottraiamo altro spazio per la imminente diretta di Massimo Bonella. Sì, alle 45, ecco, lo ricordiamo, le 45 istrì oggi in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume, che mi ero dimenticato di ricordare pochi istanti fa. Quindi io saluto i nostri ascoltatori, saluto Ugo Moreno e lo ringrazio per averci assistito con la regia. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Vi diamo appuntamento alle 22 per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Questa sera sarà con noi Luana De Francisco e Valerio Taglione. Non vi anticipo nulla perché dovete seguirci, dovete partecipare perché sarà una trasmissione sicuramente molto bella. Se non sarete in possibilità di ascoltarci alle 22, vi rimando mercoledì prossimo alle 18.30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti.